Sinceramente non mi aspetto un granché, però siamo qui, se va va, se va non va, pazienza, vediamo insomma cosa possiamo fare. Forza, grande Lazio, carica. E' sempre Forza Milan. Oggi te lo dico vinciamo 2 a 0, Sirui Leao. Forza Milan, sempre, sempre 2 a 0 Milan. Pessimista, caro amanzio. No, 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 per di poco la Lazio, ti giuro. Non ti fa mai un conto di stati di Steggassiati? From Hungary. Siamo from Hungary. I hope a lot of goals. I'm sure... Forza Milan. Forza Lazio. Ci sono ancora cinque partite. Per noi oggi è una partita molto importante. Se vinciamo siamo più vicini al nostro obiettivo. giochiamo in casa loro. Sarà una partita molto difficile, però noi dobbiamo dare tutto. Sicuramente questi due giorni abbiamo analizzato bene. Dobbiamo dare tutto. Ci sono piccoli dettagli che alla fine fanno la differenza. Dobbiamo stare dentro la partita. Dobbiamo crederci che possiamo vincere. oggi è come una finale per noi. Come tutti i giocatori che sono arrivati fino alla fine della settimana. E io credo che abbiamo bisogno di concentrare e cercare di ottenere tutti i giocatori che sono arrivati. Non stimolato. Haicolato. Mi, quello. Vino Chirule è off, Benessi Milan's determination in this crucial match Teo Hernandez has scored the goal of the season here in the coast-to-coast run and this is shaping up to something similar Matteo Hernandez, ha il magico in il left boot. Tonali è in. Buon header! Ciao! Pedro è in behind. Pasic, e poi è stato aperto in front. Il slide da Tomori. Il 2-0 è la sensazione che l'abbiamo data per persa, senza più andare a sussulti, a reazioni di grande convinzione, se non negli ultimi 10 minuti. Oggi siamo stati sicuramente più completi perché siamo stati più determinanti nell'area avversaria, cosa che invece nell'altra partita non è stata così. Sappiamo che quando giochiamo così sicuramente riusciamo ad avere il risultato. oggi c'è stata la prestazione, c'è stato il risultato, quindi siamo contenti. E' una partita che sapevamo che sarebbe stato difficile e oggi purtroppo non abbiamo vinto. Noi. Milan to Rome. The fight for a Champions League place entered its crucial stage with the clash between the Gialorossi and the Nerazzuri, which opened with a party for the 40th anniversary of the 1982-83 Scudetto. We know that it is a very strong team and we have to play our game, play our game and win this game, because even knowing that it will be difficult, we are ready to face this game. Pellegrini, great first touch, Pellegrini once more, and did Onana get a fingertip to him? Brozovic, that's a good ball, Dumfries now, Dumfries with the ball in, Di Marco round the back! Pellegrini teases it in, away by Lukaku, and here's a chance, what a save that is for Onana, Ibanez on the turn. Route 1 from Bastoni, didn't quite find the feet of Lukaku, it will now, he's been slipped in by Lautaro Martinez! And Lukaku combines with his old mate to surely give in to the win in the capital. Romelu Lukaku, on for Mkhitaryan, this is Lautaro Martinez! That would have been a beauty! Yes! We expected a very difficult game, so it was. The guys who have interpreted it in the best way, it was very important to win and we did it. It was definitely a new moment in my career, when I lost a game, it was very hard for me to process and accept it. And now I'm in a moment where I look at the guys only with tenacity and respect. Well, it looks like the coach told us, it's the message that the supporters sent us. Despite the defeat, they were there to support us. That's what our coach told us. Now we need to be positive and do what we need to do for the rest of the season. We need to be positive and do what we need to do. Grazie a tutti.